buongiorno 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 buon martedì prima giornata dopo il primo maggio come state qui a un falcone un tempo da letto allegria meno male poi mi fu riuscito a giocare mi sono fatto un caffè ma al volo per favore le sette di 5 e adesso con la città la cuoiera e che dire qui tempo da letto vorrete a dormire la notte ha dormito pochissimo o per il nervoso un po stress non so cosa succede sono dormito poco e niente pomeriggio provo di riuscire a dormire poco ma ci sono le nuvole ma purtroppo anche l'ombrello vedete la pioggia e che dire vi voglio bene vi auguro una buona giornata mi raccomando pregate per me come dice capo papà francesco voglio vivi voglio bene mi raccomando su quella vita forza 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 dai spero che queste feste finiscono finiscono di un tempo schifoso non che un po cremo bello per la giornata lui si può andare in bicicletta andare in bicicletta andare in bicicletta da rara antonella da cagliari antonella da mutilupo la santa torna nardini quella mia santa vivente che mi sa porta da parecchio tempo e buon solo tutto vi auguro una buona giornata ciao tiziana buona giornata buon lavoro perché se dire niente vi voglio bene mi raccomando pregate per me pregate per tutti un bacione e che vedete sono arrivato al 105 vingate la 1502 scritto che ha già scritto la mente scritta come tutti io la sguera non so chi è che dirai che mi voglio bene sotto anche da tutto vittelli domenico carini come un fratello problema forte coraggio andiamo avanti buona giornata vi voglio bene un bacione con la tiro non posso darmi un bacio perché c'è un bacio e buona giornata fate i bravi iscrivetevi ciao